Forse col Bologna ci siamo un po' seduti, ma i tifosi azzurri a chi attribuiscono la sconfitta? A che la chiave che l'arbitra? Che figura di merda! Purtroppo non possiamo dare colpa a nessuno. La squadra che non ha giocato, i quelli che ne abbiamo giocato per altri partiti. Siamo tifosi del Napoli, siamo fiduciosi, vai tranquillo che il Napoli ti conterà tutto sicuramente. Un pochettino i due difensori, Gugliel e Britos, sono poco addormentati. Qualche errore insomma individuale, praticamente non ha giocato come normalmente gioca. A che la chiave che l'arbitra? Secondo me il Napoli ha avuto anche un po' un calo fisico. Noi ti fiamo Napoli! Penso alla stanchezza dei giocatori. Potrebbe essere anche un calo fisico, ormai il Napoli vinceva sempre, vinceva sempre. La squadra, sarà ammollita una poca. Forza Napoli! Ho visto il centrocampo proprio che Amesic e Alani non ce la facevano. Secondo me è proprio un'impreparazione tecnica di fondo della squadra. Forza Napoli! Diciamo la formazione proprio per i giocatori che non hanno giocato bene. Forza Napoli! Un po' alla difesa, che si è visto un po' i fantasmi di Benitez. Un momento di sbandamento ieri nella parte iniziale del mezzo. Forza Napoli! Che ci sia stato un approccio sbagliato da parte di tutta la squadra e quindi era la colpa un po' di tutti. Il famoso acino di Sala che si perde la minestra. E con l'arbitro Mazzolini ci vuole solo un corno così. Come ho sentito che l'arbitro era Mazzolini ho detto che è una innata storta. L'arbitro diciamo colpisce ancora, è ancora contro Napoli. Una chiave che non serve proprio un arbitro. Il Napoli non dovrebbe essere arbitrato da Mazzolini. Speriamo, fatta accanto aiutato a Radellaurendis! Non posso dire che ha colpito contro il Napoli perché comunque il Napoli ha giocato malissimo. Una grandissima merda. Troppo sì, è la bestia nera del Napoli. È il dodicesimo uomo potrei dire. Nullo, veramente nullo. Non pervenuto. È un arbitro da mandare in C. Pezzo di merda, va? Comunque effettivamente era fuori gioco, abbastanza netto. Una chiave. Sempre, quello oramai è un incubo per i tifosi del Napoli. Non diamo conto a queste cose, siamo molti più avanzati di loro. Scarso. Mazzolini è un arbitro e come scende in campo come i giocatori può sbagliare, come un centravanti può sbagliare a non segnare un colfatto. Lo facciamo mangiare il limone ai tifosi della Roma? Questo è il mio portafortuna contro la Roma. Forza Napoli sempre. Amma vincere la Roma, amma vincere sicuratamente. Sarà un partiturno. Può essere obbligato a vincere pure perché la Roma non sta avvenendo da un bel momento. Io penso che c'è un grande riscatto del Napoli, perché il Napoli non ha sbagliato mai più di una partita. Spero che venga il Napoli, comunque. Secondo me la Roma non sta proprio all'altezza di seguire un campionato. Forse noi che possiamo temere un poco è la Juve che si può riprendere. 3-0 secco, vai. Iguain, Iguain e Insigne. La Juve che sta per recuperare e l'Inter che man mano vince sempre, quindi dobbiamo vincere questa partita, è molto importante. Il riscatto del Napoli sicuramente, quasi certamente per dare l'assalto all'Inter e alla Fiorentina, la quale ieri ha vinto e ha scavaccato il Napoli. Dobbiamo cercare di fare meglio con le piccole squadre. Io penso che il Napoli domenica batterà la Roma. Cambierà qualche centrocampista che starà un po' più fresco, possiamo anche vincere. I ragazzi sono tanto motivati, quindi penso proprio di sì. Capita giusto a pennello, c'è voglia di riscatto. Noi da tifosi ci crediamo. Speriamo che la partita prossima va meglio per noi. Il Napoli con la Roma per la storia è una partita che deve vincere assolutamente in casa. Sempre! E con me! Forza! Mancano ancora tante partite e la corsa verso lo Scudetto non si è di certo fermata. Alla prossima puntata, ciao! Alla prossima puntata, ciao! Grazie a tutti.